Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo video di oggi per me è particolarmente importante perché è il primo che giro dopo il raggiungimento dei primi 100 iscritti. Io sono davvero emozionata e contentissima perché non credevo che il mio canale sarebbe cresciuto così in fretta. Spero con tutto il cuore che continuerà a crescere sempre di più e che potremo continuare a condividere le nostre esperienze di lettura e di scrittura. Grazie mille a tutti con tutto il cuore, grazie. Visto che ormai siete in tanti a seguirmi ho pensato che magari vi avrebbe fatto piacere sapere qualcosina su di me perché in effetti finora non mi sono mai presentata come si deve. Perciò ho deciso oggi di girare un videotag. In questo videotag vi svelerò appunto alcune cose su di me però attraverso un sistema un po' particolare. All'inizio infatti avevo pensato di fare il classico videotag delle 10 domande, 20 domande e via dicendo. Poi però mi sono detta ma no facciamo qualcosa di un po' più particolare e comunque rimaniamo comunque in tema di libri. Per cui ho deciso di girare un videotag descriviti coi libri. È un videotag molto carino che ho trovato su vari canali e spero tanto che vi piacerà. Cominciamo quindi subito. Vi spiego più o meno come funziona. Ci sono 15 domande a cui darò una risposta attraverso titoli di libri. Quindi come potete ben immaginare qui al mio fianco ho una pila altissima di volumi. Iniziamo quindi con la prima domanda. Sei maschio o femmina? la ragazza drago di Licia Troisi. Seconda domanda. Descriviti una sognatrice di Marta Culei. di Flavio Standoli. Descrivi la tua relazione precedente. Il triangolo maledetto di Vincent Gaddis. Descrivi la tua relazione attuale. Irresistibile di Epic Lines. Dove vorresti trovarti? Io Africa di Folco Quilici. Come ti senti nei riguardi dell'amore? Mi piace vederti felice di Rossella Arasulo. Come descriveresti la tua vita? Fearless di Cornelia Funche. Cosa chiederesti se avessi a disposizione un solo desiderio? Breviario del successo. Selezione dal Reader's Digest. Di qualcosa di saggio. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Di Gino e Michele e Matteo Molinari. una musica. Tua Light di Stephanie Meyer. Chi o cosa temi? Gli insetti. Della colana I Regni della Vita di Peter Fargo e dei redattori di Time Life. pensavo di scappare con te. Di Francesco Gungui. Un consiglio per chi è più giovane. Te stesso al 100%. Di Wayne W. Dyer. Ultima domanda. Da evitare accuratamente. Cucina per la dieta. Dell'Istituto Geografico di Agostini Novara. Per la serie I documentari Guide Pratiche e Cucinare numero 12. E con questo abbiamo finito. Bene ragazzi. Anche per oggi è tutto. Ne approfitto per dirvi che adesso potete trovarmi anche su nuovi social network. Non solo su Facebook. Ma anche su Instagram e su Twitter. Vi lascio tutti i miei contatti nell'info box. Ci vediamo alla prossima allora. Un bacione. Ciao. Grazie.